Gossipita VIP, se lo sussurra, lo svegliamo. La notizia dell'attesa gravidanza di Veronica Peparini e Andrea Smuller è finalmente ufficiale. Questa coppia affiatata, che si è conosciuta grazie al popolare show Amici di Maria De Filippi, si prepara ad accogliere due gemelle. L'annuncio è stato fatto in un'intervista emozionante nel salotto di Silvia Toffanin su Verissimo. La coreografa 52enne e il ballerino di 27 anni hanno condiviso la loro gioia, rivelando di aver avuto un piccolo aiuto a causa dell'età di Veronica. Hanno pianificato un gender review card intimo per svelare il sesso dei loro gemelli ai loro cari, un momento speciale con amici e famiglie. Questa dolce attesa è stata accolta con amore e gioia, portando ancora più felicità nella vita di Veronica e Andrea.